L'avversario di me stesso è stato Antonio perché ho fatto tante cazzate, ho fatto tante stupidaggini, tanti errori. Io non facevo allenamenti zero, non mi andava mai di allenarmi, giocavo sempre con 10 kg di sovrappeso, mancavo di rispetto agli allenatori. Adesso, a distanza di anni, con dei figli, dico che coglioni sono stato. Però magari non eri cazzano se non eri così. Doveva essere l'estate del 2000 o giù di lì. Allenavo l'Under 21 ed eravamo in ritiro. Quella era una squadra piena di futuri campioni. C'era Andrea Pirlo, c'era Gennaro Gattuso e c'era un ragazzino di 17 anni che veniva da Bari vecchia. Io… Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti! C'era Il